E poi arrivò quel brutto giorno. La Terra se ne stava tranquilla nella sua orbita, ma viene intercettata da questo asteroide. Questo asteroide colpisce quello che oggi è la penisola dello Yucatan e, come vedremo, cambierà completamente la storia della vita sulla Terra per sempre. Cosa succede durante l'impatto? Come sapete, la forza equivale a massa per accelerazione. L'asteroide aveva una massa molto grande, era largo almeno 10 km, ma si muoveva a una velocità di circa 30 km al secondo. Quindi doveva moltiplicare la massa dell'asteroide per la sua accelerazione. Quindi l'energia cinetica del meteorite era molto grande e durante l'impatto questa energia cinetica viene convertita in energia termica, generando così quella grande esplosione. Quindi il meteorite viene completamente vaporizzato insieme a parte della crosta e le onde sismiche generate da questo impatto riescono a scagliare nello spazio e sul pianeta a grandi distanze frammenti della crosta intorno all'area di impatto. L'esplosione è di circa 10 all'ottava megatoni, più o meno circa 10.000 volte tutte le bombe atomiche che oggi sono sulla Terra. L'oggetto doveva essere visibile già tre ore prima dell'impatto. Il cradere che scavò fu molto profondo, alcune steam a ribasso lo danno a 25 km, come vedremo altri invece lo danno a 40 km. Nonostante l'evento imponente, gli scienziati non riuscivano ad immaginare la portata globale dell'evento, perché è ovvio questo è stato un evento drammatico, però doveva interessare un'area ristretta, non tutto il pianeta. Vedremo che questo evento ha innescato degli eventi che poi hanno avuto una portata globale. Cosa succede al momento dell'impatto? L'oggetto colpisce la superficie terrestre, l'aria viene compressa, un gas in compressione aumenta di temperatura e quindi abbiamo questo lampo e questa onda di calore. Questo impatto generò forti venti, tsunami e terremoti che hanno devastato un'aria di almeno un raggio di 2000 km intorno al punto di impatto. Cosa succede durante l'impatto? Vedete che l'onda d'urto scava il cratere, però il rimbalzo elastico dell'onda d'urto genera una montagna centrale e poi il sistema si riassesta. Quindi anche se all'inizio il cratere era molto profondo, poi la profondità è diminuita generando delle ondulazioni interne causate dal rimbalzo elastico dell'onda d'urto. Intorno si formano queste fratture circolari che creano una depressione costante. Quindi alla fine della sua evoluzione il cratere è molto meno profondo di come poteva essere durante il momento di impatto. Le onde d'urto sono state così violente da ricristallizzare i minerali delle rocce e quindi nel punto di impatto troviamo minerali di quarzo e di ricristallizzazione tipiche che si formano durante questi eventi ad alta pressione e temperatura e quindi anche qui possiamo riconoscere la firma di un impatto. Qui vediamo in slow motion cosa succede durante un impatto. Vedete che l'onda d'urto una volta colpito il pianeta ritorna verso l'alto generando questa specie di montagna centrale. Il cratere che all'inizio era molto più profondo riassorbe l'energia e diventa meno profondo. Quindi vedete come si forma il cratere durante l'impatto. È importante ricordare che il rimbalzo elastico dell'impatto genera un rilievo centrale. Infatti tutti i cratere più grandi anche sulla Luna hanno una montagna centrale generata da rimbalzo elastico dell'onda d'urto. Come detto prima alcune stime davano un cratere profondo anche 40 km però alla fine il cratere è sempre meno profondo perché viene riempito da materiale che frana lateralmente e che torna dal basso con l'onda d'urto di rimbalzo. Qui vediamo cosa è successo quel giorno. La sfortuna ha voluto che l'asteroide cadesse in una zona di mare caldo e poco profondo, una zona quindi ricca di depositi calcarei. La roccia calcarea contiene molto carbonio e anche molto zolfo. Quindi cos'è successo durante l'impatto? Che l'asteroide e parte di questa roccia a bersaglio, quindi di questo fondale marino calcario, sono letteralmente vaporizzati nell'atmosfera e la roccia calcare del fondale marino ha immesso in atmosfera una grandissima quantità di CO2. Questo potente gas serra si rivelerà importante per le conseguenze dopo l'impatto perché andrà a modificare il clima del pianeta. Poi inoltre l'impatto generò un'onda d'urto enorme. L'onda d'urto era nell'aria, in atmosfera, creando forti venti, negli oceani, quindi creando un forte tsunami, e anche nella crosta creando forti terremoti. Quindi l'onda d'urto si è propagata in tutti e tre i mezzi, atmosfera, idrosfera e crosta terrestre. E come detto prima, per un raggio di almeno 2000 km c'è stata la devastazione totale. Nonostante l'impatto sembra essere venuto nella penisola del Yucatan in Messico, sono stati trovati enormi depositi di tsunami in zone che oggi sono l'attuale in Texas e in zone del Messico centrale, quindi in zone molto distanti. Tutto il Golfo del Messico è stato totalmente sconquassato da questo grande impatto. Qui vediamo una simulazione. Ecco, qui vedete il momento dell'impatto. L'asteroide, l'acqua e parte della crosta evaporano all'istante, generando questa forte esplosione. Quindi l'onda d'urto si propaga molto velocemente nell'atmosfera. Qui vediamo la scena di un popolare film Deep Impact, anche questo degli anni 90. Questo film ci fa vedere come l'onda d'urto vada a propagarsi nella zona circostante. Quindi ovviamente per un raggio di migliaia di chilometri l'onda d'urto ha creato questi fortissimi venti. Ovviamente dopo il vento è arrivato anche lo tsunami, che come detto prima ha attraversato tutto il Golfo del Messico e ha colpito le antiche coste del Messico e degli Stati Uniti d'America. Durante questo impatto una parte dell'atmosfera si è persa nello spazio e si sono persi nello spazio anche frammenti di crosta terrestre che si sono dispersi nel sistema sorrinterno, mentre altri frammenti sono stati lanciati a grande distanza e hanno innescato incendi in foreste lontane. Infatti cos'è successo dopo? Che tutte le foreste del mondo hanno preso fuoco perché questi frammenti delle crosta terrestre lanciati nello spazio sono ricaduti a grandi distanze anche su altri continenti innescando potenti incendi. In tutti i depositi risalenti all'epoca ci sono resti di cenere dovuto al fatto che enormi incendi hanno interessato il mondo proprio in quell'evento. Perché questo è importante anche? Perché il 70% dell'estinzione di tutte le specie vivente è dovuto al fatto che questo impatto fece collassare tutte le catene alimentari a base fotosintetica. Infatti in tutto il mondo la fotosintesi era la base di tutte le catene alimentari, le piante erano alla base di tutte le catene alimentari e una volta che le foreste sono bruciate e poi nei mesi successivi la polvere sollevata e l'ascendere degli incendi hanno coperto il sole per mesi, le piante superstiti che non sono bruciate negli incendi sono morte per mancanza di luce solare e quindi ovviamente tutti gli ecosistemi sono collassati. Inoltre, come ho detto prima, la sfortuna ha voluto che Mediorite colpisse una roccia carcarea che oltre a essere ricca di carbonio è anche molto ricca di zolfo. Le piogge che sono succedute dopo questo impatto erano piogge molto acide perché in quell'impatto si sono formati molti acidi di zolfo e di azoto che hanno avvelenato tutte le foreste superstiti. Ogni metro quadrato della Terra fu coperto in media da circa un chilogrammo di detriti, la vegetazione soffrì sia per mancanza di luce solare che per l'ascendere depositata sui continenti e nessun essere vivente con peso maggiore di 25 kg è sopravvissuto alla carestia successiva. Infatti, gli animali piccoli sono sopravvissuti perché sicuramente erano più numerosi e perché avendo un corpo piccolo potevano permettersi un fabbisogno energetico minore per sopravvivere e quindi sono riusciti a sopravvivere a lunghi mesi con poco cibo magari mangiando radici o insetti mentre ovviamente tutti quegli erbivoli che avevano bisogno di mangiare grandi quantità di foglie ogni giorno non potevano sopravvivere a questo lungo periodo senza vegetazione. Come detto prima, le rocce d'impatto nella zona di Yucatan erano costituite da calcari. Questi calcari contenevano carbonio ma anche zolfo e questo zolfo, una volta vaporizzato nell'impatto e finito nell'atmosfera, ha reagito con il vapore acque e con l'ossigeno e ha formato le piogge acide facendo soffrire ancora di più la vegetazione sopravvissuta. Inoltre, il carbonio presente in quelle rocce che si è trovato vaporizzato in atmosfera reagendo con l'ossigeno ha formato CO2 e questa CO2, dopo la posa della cenere ha contribuito ad alimentare un potente effetto serra che ha modificato il clima creando poi un forte riscaldamento e quindi creando un ambiente ancora più ostile a chi è sopravvissuto. Quindi diciamo che anche se l'impatto ha interessato solamente la zona dell'America centrale poi gli eventi innescati da questo impatto hanno avuto una portata di livello globale tanto da far estinguere il 70% di tutte le specie viventi della Terra. Questo è solamente un estratto della lezione completa sull'evento KT Nella lezione completa vedremo cosa è successo veramente quel giorno vedremo come la vita ha risposto a quell'evento e come i mammiferi hanno preso il posto dei rettili con il fenomeno dell'evoluzione radiativa poi vedremo quali sono le prove geologiche in tutto il mondo che testimoniano questo evento che ha cambiato la storia del pianeta vedremo in quale punto del mondo è stato localizzato il cratere di impatto in particolare a nord della penisola dello Yucatan nel Golfo del Messico e poi vedremo cosa accadrebbe se un evento simile avvenisse al giorno d'oggi come reagirebbe l'umanità a un impatto del genere Potete trovare questo e tanto ancora nella lezione completa del mio corso di astronomia la numero 11, l'evento KT Trovate questa lezione e tutte quante le altre lezioni del videocorso sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook Prof. Antonio Lo Iacono Grazie